Prima puntata della serie dedicata al filosofo britannico Alfred North Whitehead. Prima puntata della serie, come al solito, dedicata alla biografia, però prima vorrei richiamare la vostra attenzione su questo filosofo perché normalmente mi sembra sottovalutato, per esempio in tutti i manuali scolastici, ma non solo scolastici, non solo liceali, ma anche nei testi, nelle storie della filosofia di livello universitario, a questo filosofo sono dedicate poche pagine, per non dire poche righe, e invece, a mio parere, è un filosofo degno di grande considerazione. Perché? Perché nel panorama della filosofia della prima metà del Novecento, ma anche del secondo Novecento e fino ai giorni nostri, Whitehead appare un caso filosofico più unico che raro. Egli, infatti, sintetizzò nella sua filosofia approcci e orientamenti che normalmente sono separati e spesso antitetici, come la logica matematica, la conoscenza scientifica, sia a livello biologico, sia a livello fisico, la filosofia della scienza, la metafisica e la teologia. In altre parole, il frutto finale della lunga articolata ricerca filosofica di Whitehead, esposto soprattutto nell'opera Processo e realtà, rappresenta quantomeno il tentativo di elaborare una filosofia davvero comprensiva di tutti i principali ambiti dello scibile umano, dunque una filosofia nel senso pieno del termine, cioè come conoscenza della realtà nella sua totalità e come tale inclusiva di tutte le discipline conoscitive, al di là di settorialismi o contrapposizioni. In questo senso, Whitehead, muovendosi decisamente controcorrente, riprende e attualizza l'ideale filosofico antico, classico, quello che da Platone a Aristotele arriva sino a Leibniz, ad Hegel, un ideale poi tramontato a causa di una sempre maggiore settorializzazione della filosofia e in particolare della sempre più netta separazione tra sapere scientifico e sapere metafisico. Una separazione che Whitehead rigetta tornando a riproporre l'istanza di una integrazione e di una continuità tra scienza e metafisica. Sotto questo aspetto, la filosofia di Whitehead può certamente essere avvicinata a quelle di Husserl e di Bergson, in quanto tutte condividono il proposito di riunificare scienza e metafisica. Non di meno, la filosofia white-ediana si differenzia dalle filosofie di Husserl e Bergson per la maggiore profondità e vastità del suo fondamento scientifico, soprattutto a livello della fisica. Date le maggiori conoscenze e competenze acquisite in ambito scientifico da Whitehead, il quale, almeno per alcuni anni, condusse una propria ricerca nell'ambito della fisica relativistica e della fisica quantistica, da cui scaturirono risultati scientifici originali che permettono di considerarlo a tutti gli effetti non solo un filosofo ma anche uno scienziato. Stupisce dunque che, quantomeno in Italia, ma forse anche al di fuori dell'Italia, la filosofia di Whitehead risulti così poco conosciuta e valorizzata. Della sua sottovalutazione si possono dare, tra le altre, due spiegazioni. La prima, già in parte anticipata, è che essa è in controtendenza rispetto al corso principale della filosofia contemporanea che si muove non solo verso una sempre maggiore separazione tra scienza e metafisica, ma anche verso una sempre maggiore marginalizzazione, per non dire verso addirittura l'estinzione della metafisica. La seconda spiegazione della sottovalutazione di Whitehead riguarda la difficoltà intrinseca delle opere di Whitehead che ne rende ardua la lettura, la comprensione, non solo ai comuni mortali, ma anche agli esperti, come da loro stessi riconosciuto. ancora più ardua parrebbe di quella di filosofi noti, tragicamente noti, per l'incomprensibilità dei loro scritti, come Hegel, Husserl, Heidegger. Bene, fatta questa introduzione per invitarvi a acquisire la conoscenza della filosofia di Whitehead, vengo alla sua vita, la vita di uno studioso, di un accademico, come vedremo. Alfred North Whitehead nacque nel 1861, l'anno della proclamazione del Regno d'Italia, a Ramsgate, piccola città inglese nell'isola di Thenet, situata nella punta sud-orientale della Gran Bretagna. Suo padre e suo zio erano entrambi pastori anglicani e dunque Whitehead ebbe un'educazione improntata ai principi della dottrina religiosa della chiesa anglicana. Nel 1880 entrò al Trinity College dell'Università di Cambridge come studente di matematica e nel 1884 vi conseguì la laurea con una tesi sulla teoria elettromagnetica di Maxwell e ancora dal 1885 al 1911 vi insegnò, insegnò appunto al Trinity College diventando docente e poi amico di Bertrand Russell, amico e collaboratore, come adesso vedremo. Nel 1891 Whitehead sposò Evelyn Wade, irlandese di religione cattolica. dalla quale avrebbe avuto una figlia e due figli. Per influenza della moglie che gli fece leggere gli scritti del cardinale Newman si avvicinò al cattolicesimo. Tuttavia in seguito, almeno fino alla prima guerra mondiale, egli si dichiarò agnostico, salvo poi, come vedremo, elaborare una propria visione originale di Dio, una propria originale teologia. Durante il suo insegnamento al Trinity College, coincidente con la prima fase della sua produzione filosofica, che va dal 1898 circa al 1910, Whitehead scrisse e pubblicò le sue prime opere, Trattato di Algebra Universale del 1898, opera in cui riprese e sviluppò la ricerca leibniziana di un linguaggio logico-matematico universale e che nel 1903 gli valse l'elezione a membro della Royal Society. Quindi scrisse e pubblicò gli assiomi della geometria descrittiva, 1907, e infine la monumentale opera in tre volumi intitolata Principia matematica, scritta a quattro mani con Bertrand Russell e pubblicata dal 1910 al 1913. Questo testo, una pietra miliare nello sviluppo del pensiero logico, realizzava il programma cosiddetto logicista, del logicismo di riconduzione dell'intera matematica ai principi della logica, a principi logici. Nel 1910, Whitehead si dimise dall'Università di Cambridge. Tra le motivazioni della sua decisione fu anche il suo dissenso nei confronti dei provvedimenti disciplinari che la direzione aveva adottato ai danni di un suo collega e anche amico, la cui relazione con una donna sposata aveva sollevato un pubblico scandalo. L'abbandono del Trinity College segnò l'inizio della seconda fase della ricerca filosofica di Whitehead che va all'incirca dal 1911 al 1924. durante la quale egli insegnò matematica e fisica all'Università di Londra e poi matematica applicata all'Imperial College of Science and Technology sempre a Londra. Nel 1915 fu presidente della Mathematical Association fino al 1917. L'anno successivo, l'ultimo della Prima Guerra Mondiale, 1918, Whitehead subì la dolorosa perdita del figlio, 19enne, Eric, pilota della Royal Flying Corps. The Royal Flying Corps. In questo secondo periodo del suo insegnamento e della sua filosofia, Whitehead si dedicò alla filosofia della scienza ma anche alla ricerca scientifica in se stessa, scrivendo e pubblicando Indagine sui principi della conoscenza naturale, 1919, Il concetto di natura, 1920, Il principio della relatività con applicazioni alla fisica, 1922. In quest'ultimo libro Whitehead espose una sua originale versione della teoria della relatività generale alternativa a quella di Einstein che aveva incontrato nel 1921 e con cui aveva discusso la sua diversa concezione della gravitazione universale. Nel 1922 e nel 1923 Whitehead fu nominato presidente della Aristotelian Society nel 1924 decise di trasferirsi negli Stati Uniti come docente all'università di Harvard sempre a Cambridge ma non Cambridge inglese ma Cambridge nel Massachusetts quindi la Cambridge statunitense quindi da Cambridge a Cambridge ma diciamo due Cambridge abbastanza diverse. Cominciò così la terza e ultima fase della sua riflessione filosofica di stampo metafisico e teologico i cui frutti egli espose nelle opere Simbolismo Suoi Significato ed Effetto pubblicato nel 1927 Processo e realtà che ho citato prima col sottotitolo Saggio di Cosmologia pubblicata opera pubblicata nel 1929 l'anno dell'inizio della Grande Depressione ancora sempre nello stesso anno La Funzione della Ragione poi Avventure di Idee nel 1933 Natura e Vita l'anno successivo 1934 non di meno Whitehead si occupò al contempo di pedagogia e didattica scrivendo e pubblicando il libro I fini dell'istruzione e altri saggi sempre pubblicato questo libro nel 1929 in cui opera in cui perorò un'impostazione didattica e interdisciplinare basata sulla selezione di pochi concetti fondamentali ma trattati nella loro connessione con più e diverse aree disciplinari e soprattutto pochi concetti applicabili alla vita reale nel periodo di Harvard Whitehead esercitò una significativa influenza sulla cultura statunitense in particolare fu insegnante di molti studenti universitari che sarebbero poi diventati importanti e illustri docenti come l'economista Keynes e i filosofi Goodman e Quine tuttavia l'insegnamento di Whitehead a Harvard non diede origine a una corrente filosofica whiteheadiana i nuovi filosofi che gli formò infatti seguirono poi indirizzi diversi e anche contrapposti rispetto a quello di Whitehead durante il periodo statunitense nel 1931 Whitehead fu eletto membro della British Academy nel 1937 raggiunti i limiti di età per l'insegnamento istituzionale andò in pensione ma purtuttavia continuò a insegnare per così dire privatamente la sua casa di Cambridge infatti diventò sede di incontri e dibattiti quasi quotidiani cui partecipavano ex studenti neostudenti e docenti universitari ex colleghi di Whitehead non solo anche dopo il pensionamento Whitehead scrisse e pubblicò altre due opere modi del pensiero nel 1938 e saggi di scienza e filosofia 1947 nel frattempo due anni prima nel 1945 a coronamento del suo insegnamento fu insignito e della sua produzione filosofica ovviamente fu insignito dell'ordine al merito del Regno Unito Whitehead si spense nella sua abitazione di Cambridge Cambridge Massachusetts nel 1947 all'età di 86 anni dopo la sua morte come da lui espressamente richiesto i figli distrussero il suo archivio personale ossia le lettere e altri documenti afferenti alla sua vita privata questa sua disposizione testamentaria e prima ancora la scelta di non scrivere un'autobiografia attestano la sua riservatezza e spiegano la scarsità di informazioni sulla sua vita privata di cui disponiamo da questo punto di vista mi viene in mente il motto epicureo lazes biosas vivi nascondendoti vivi appartato appunto Whitehead sembra abbia praticato appunto questo questo invito appunto diciamo celando celando la tenendo nascosta la sua la sua vita privata bene si conclude così questa prima puntata della serie dedicata alla filosofia di Alfred North Whitehead entreremo nel merito nel suo merito nel merito di questa filosofia nella prossima puntata sperando di riuscire a rendere la filosofia Whiteheadiana comprensibile senza però mortificarla senza semplificarla o ridurla in modo in modo superficiale è un osso duro Whitehead mi ha dato e continua a darmi filo da torcere però però insomma ci provo impresa ardua ma proprio per questo da tentare alla prossima puntata è il la che è il il